Ciao ragazzi, buongiorno, 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 oggi Ok, stiamo festeggiando il giorno di mamma Come si chiama in italiano? La festa La festa della mamma No, la festa della mamma So, ora stiamo a Guido's mom's place Edela in camera Oggi è la festa della mamma So, stiamo festeggiando il giorno di mamma Allora, noi siamo a casa di la tua nonna Mia sua cera, or my mother-in-law First thing first, I want to introduce you Io voglio introdurre chi parla Si, 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 introdurre Io sono Lorenzo E tu? Giampaolo Giampaolo Mi ha iscritti, i miei subscriberi Sono in Indonesia E anche miei amici Forse abitano se in Italia, anche in Indonesia Forse in un'altra paese Ok Si How about your school? Come si dice in italiano? A che scuola fai? La prima media La prima media La prima media La prima media Non lo so in inglese che cosa è E' junior high school Tu anche? Quinta elementare So, how about the quarantine time? Do you like? No E' per facile, brutto Perché non vedi amici Ah si Because they don't see Sempre in casa They don't see their friends Sempre in casa It means like they're always staying at home E' Nicolas, come si? Come si Come si Come si Come si Ah ok Facciamo il video Dici il tuo nome Dicile il tuo nome Dicile il tuo nome Il tuo nome Quanti anni hai? Dici il tuo nome e quanti anni hai? Quanti anni hai? Ho sei anni Sei anni Sei in casa in questa quarantena? Si Si perché? Amici Ti rilassi Che cosa fai nella quarantena? Quando iniziate per studiare? Allora facciamo le video lezioni La mattina al pomeriggio Per studiamo E poi magari giochiamo un poco Vediamo video Ok Mangiamo Mangiamo Anche cuciniamo No? No E tu cucini? No 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 mangiamo su E io cucino Io mangio dalla mattina alla sera Che cos'è Che cos'è Che cos'è L'ho hobby? Cos'è Dicile Drawing Painting vuoi parlare inglese? no? e tu? che cosa è il tuo hobby? qual è il tuo hobby? la mia hobby è il calcio motori motori ah ok ok ma non puoi raccontare la quarantina la quarantina è difficile per loro la mia la mia la mia continua la chitarra la chitarra vedi mostra mostra no? parlate che cosa vuoi parlare? no? c'è qualcosa che vuoi dire a tua mamma? auguri a tutte le mamme auguri 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 i love you mamma no? auguri mamma auguri mamma bacio c'è una nicole quindi questi sono i miei miei i miei 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 video che cosa facciamo oggi? manchiamo 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 si si barbecue sì barbecue come si chiama? la brush come stai? bene e tu? tutto bene adesso noi stiamo preparando facciamo una brush allora la brush è composta da this is traccia traccia maiale cos'è? questo è filetto beef beef sì anche maiale? no anni 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 questo è sosi ciao l'incita nico meli defined filetto è una crescita sì no li Tomeno Tomeno Salato Menta Menta Sai questo cosa è? Palma Cosa? Questo è papilo Papirus? Parola Soprima E' un po' E' un po' Un po' Dio Cugino Un po' Un po' Ciao Ciao! Cugino di... Ciao! This is lavender. È lavender, si? Odora! Buona prossima! Ma, che per il cuore? Non ti do? Bu for la Bopo? Non ti do? È una bambina. È una bambina. È una bambina. È un caldero. È un caldero. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Buona eh? Quell'altra che ho preso dopo? No, quella che ho preso prima Questa invece ha... Diventa la notte La più niente Ora mentre si vedi È tutto sfogato È davvero Non è tutto sfogato Lascia, lascia È solo più grande C'è solo più grande Sono sempre più grande di tutte le cose E poi quando giri Il riflesso fa Tipo onda Pianti Posso fare pure io? Sì? Perché io voglio diventare un contadino Oh, un contadino Oh, un contadino O che vuole è l'egfelt? Oh, un contadino Si vuole, un contadino E poi quando mi piace E quindi d'introduzione Non mi piace Che devo fare una cosa? E quindi non mi piace Ciao!